Non sappiamo più davvero se ridere o piangere. Giovanni Ignoffo resta l'allenatore dell'US Avellino 1912. Ha incassato questo pomeriggio intorno alle 16 la fiducia da parte della società, del presidente Claudio Mariello e del direttore sportivo Salvatore Di Somma. Una fiducia però possiamo dire di facciata, perché nella realtà dei fatti la situazione è completamente diversa. Ieri, subito dopo la sconfitta di Pagani, Di Somma e Mauriello avevano deciso di cambiare la guida tecnica, è stato contattato, come ha lui stesso riconfermato, il siorino Capuano. Il problema però è di natura puramente economica. Non c'è un euro nella cassa di questa società bianco-verde, nonostante la società continui per le poche fonti istituzionali che ancora parlano con i giornalisti a dire il contrario. Capuano voleva dire coprire l'ingaggio di Capuano e del suo staff tecnico con una nuova fide di uscione, con un nuovo impegno economico, cosa che in questo momento è impossibile. Mauriello ha capito anche con un incontro informale con Baldassare che la situazione è complicata, rischiavano di irritare Baldassare. Così, dopo aver anche incassato il no di Ignoff e di Cinelli, che non erano assolutamente intenzionati a dimettersi, come appunto la società gli aveva chiesto, sono stati costretti ad andare avanti con Giovanni Ignoffo. Anche di somma, con lo stesso Mauriello, era convinto della necessità di dare una scossa, per questo aveva scelto Capuano come comunque il motivatore, nonostante la piazza due mesi fa, come sapete, non aveva nessuna intenzione di accettare il suo incarico, tante che appunto poi si è ripiegato su Ignoffo. Si va avanti con il tecnico che comunque sicuramente in una situazione così delicata e quello che ha delle colpe sicuramente, delle responsabilità sicuramente, ma le responsabilità più gravi continuano ad essere quelle da parte della società, sempre più silenziosa, sempre più latitante, che sta buttando una intera piazza nello sconforto, nell'amarezza più totale e alla fine chissà che i tifosi non saranno davvero costretti ad abbandonare la pilino. Lo zoccolo duro non lo farà mai, ma la situazione è davvero molto molto preoccupante.